Non avevo ancora detto la seconda figura, allora la seconda figura è di Gabbiano, come la dota che finiscono il balletto si uniscono a Gabbiano, e con, lo spiego io, e con i passi, cominciando dall'esterno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ruotando, tanto da arrivare alla fine della frase musicale che può una la schiena al centro e la dota all'esterno. E siamo nella posizione di polca, nella posizione di polca che abbiamo fatto prima, ed è una polca girata, la musica ce lo dice chiaramente, Allora, facciamo dall'inizio nuovamente, dall'inizio aggiungendo queste due figure, il Gabbiano e la polca, d'accordo? Sostante! che può essere arroccante sì, però più chi ti è mafistà, è un po' chi lo vuoi ballare. Sono stati, sono stati, che può essere arroccante sì, però più chi ti è mafistà, è un po' chi lo vuoi ballare. Sono stati, sono stati, che può essere arroccante sì, ma più chi ti è mafistà, è un po' chi lo vuoi ballare. Bene, adesso mi mostro a Charlie, mi mostro a Dante. Sono stati, è un po' chi lo vuoi ballare. Grazie. 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 Grazie.